Oggi inauguriamo questo progetto a Terni con l'installazione di 92 punti di ricarica per la mobilità elettrica. È un progetto molto importante che permetterà di coprire praticamente tutta la città e quindi permetterà di fare in modo che Terni diventi una specie di progetto pilota a livello nazionale con una copertura complessiva per la mobilità elettrica. Per noi è molto importante, per il gruppo ACEA, perché in linea con quello che è il nostro piano industriale per lo sviluppo della mobilità elettrica è il primo passaggio che adesso andremo poi a realizzare anche in altre aree, in particolare nella città di Roma. Ecco, la presenza di ACEA qui sul territorio è sempre più costante in vari ambiti. Qual è un po' la visione, i progetti che avete per il territorio? La presenza di ACEA a Terni è importante in diverse aree, sia per la presenza di Umbria Energy, per tutte le attività che facciamo nel trattamento dei rifiuti e nel servizio litro. Quindi è chiaro che per noi Terni è una presenza strategica e intendiamo sviluppare sempre di più nei prossimi anni.